luisa jacobson figlia di meryl streep e don gammer ha reso pubblica su instagram la sua relazione con anna blundell il 22 giugno giorno del 75esimo compleanno di sua madre la star di fegil didage 33 anni ha condiviso una dolce foto della coppia con la didascalia blessed to be entering the joyful new era ovvero felice di stare per entrare in una gioiosa nuova era tra le foto pubblicate una mostra la coppia in una stanza illuminata da luci rosse altre sono selfie allo specchio luisa è la più giovane dei quattro figli di streep e gammer che insieme hanno anche henry wolf maynie grace meryl streep e don gammer si erano sposati nel 1978 ma nel 2023 si è venuto a sapere che erano già separati in gran segreto da almeno sei anni un portavoce della diva de il diavolo veste prada ha fatto sapere anche se si prenderanno sempre cura l'uno dell'altro hanno scelto di vivere separati i due si erano visti l'ultima volta insieme ad un evento ufficiale nel 2018 in occasione della notte degli oscar l'isurama la notte della notte di vivere la notte della notte la notte Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.